Ciao a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video. Mi vedete con una bella scopa in mano, secondo me è davvero bella, ha dei bellissimi colori che tra l'altro reputo molto affascinanti e un po' insoliti per quanto riguarda questa categoria di dispositivi. Oggi parliamo della Tineco A11 Master, una scopa elettrica dal prezzo poco inferiore ai 400€ ma che spesso si trova a un prezzo più vicino ai 300€, per esempio proprio in questo momento in cui sto facendo il video è possibile applicare un buono sconto di 50€ per cui andrete a pagarla a 329€. Ha parecchi punti di forza, qualche criticità che mi ha fatto un po' storcere il naso ma oggi andiamo a scoprire come funziona, se dovreste comprarla, chi dovrebbe comprarla e come si comporta rispetto al King, ovvero il Dyson V10 che più o meno adesso si trova allo stesso prezzo. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando il pulsante rosso qui sotto, è totalmente gratuito, non c'è alcun costo, solamente mi supportate e quindi poi posso portarvi più prove e più approfondimenti in modo che possiate scegliere in maniera migliore il prodotto che vi serve e soprattutto mi supportate davvero tanto, lo apprezzerei moltissimo. E poi di iscrivervi al canale Telegram dedicato alle offerte perché queste Tineco e molti altri prodotti vi verranno segnalati quando si abbassano di prezzo, il link lo trovate sempre qui sotto nella descrizione. Iniziamo però con la confezione, una confezione che arriva ed è molto pesante perché all'interno ci sono una quantità enorme di accessori, oltre al motore alla scopa elettrica c'è il tubo rigido che è costruito in metallo, gli inserti invece sono in plastica bianca, c'è una spazzola multisuperficie però all'interno ci sono due di queste spazzole, c'è questa qui che è quella per tappezzeria, moquette, pavimenti morbidi quindi tappeti e tanto altro ed ha delle setole, due file di setole che si incrociano mentre poi c'è quella con setole morbidi che è più adatta a pavimenti duri. Avete per esempio il parquet, avete per esempio del marmo, avete un pavimento incotto in granito, beh potete utilizzare benissimo quella là perché ha anche un effetto lucidante, muovendosi molto velocemente praticamente andrà a rimuovere lo sporco che si deposita e soprattutto andrà a spazzolare in maniera molto energica per cui troverete il pavimento anche più lucido. Non solo, ci sono poi tantissimi accessori, davvero impossibile elencarli tutti, tra quelli più importanti però ve ne voglio segnalare alcuni. Innanzitutto c'è una seconda spazzolina motorizzata, un po' più piccola, che vi permette di pulire adeguatamente moquette, tappezzeria, divani, materassi e quello può essere un valido alleato soprattutto nel cambio di stagione, quando volete pulire anche i materassi, divani e quant'altro, oppure la vostra auto e sedili in tessuto o in pelle vanno puliti per cui potete utilizzare quell'accessorio per rimuovere tutti i residui che con il tempo si accumulano. Dopodiché ci sono i tubi di prolunga, i vari beccucci per pulire gli angoli morti. Tra l'altro, dimenticavo, questa qui è una testa con dei led nella parte frontale per cui riuscite a vedere meglio la zona che volete andare a pulire e identificare la polvere. Dopodiché c'è un accessorio che mi ha letteralmente fatto impazzire. Ve lo prendo, scusatemi se vi do le spalle. Vi ricordate che vi dico sempre che tutti gli aspirapolvere e scopi elettriche hanno dei filtri e che questi filtri devono essere puliti. Il problema però è sempre come si pulisce un filtro, potete scuoterlo, non va lavato perché è fatto anche di cellulosa per cui può andare a rovinarsi se bagnato, però andarlo a scuotere non è sicuramente la maniera più efficace. Tineco, che tra parentesi è un brand molto vicino ad eBot, di cui abbiamo conosciuto e analizzato diversi aspirapolvere robot, ha incluso questo accessorio qua con un secondo filtro. Questo è un pulisci filtro, infatti si apre da questa parte qui, è proprio a vite e praticamente vi permette di pulire il secondo filtro, lo agganciate qui, aspira la polvere e voi vi ritrovate con un filtro pulito. Fate questa operazione una volta al mese, praticamente i due filtri inclusi vi dureranno un'intera vita. È un accessorio secondo me molto utile, altri produttori dovrebbero pensare a integrarlo. Dopodiché ci sono queste qui due batterie, due batterie da 2000 mAh che insieme permettono di avere un'autonomia complessiva di circa 50 minuti. Ovviamente l'autonomia va sempre considerata in base all'utilizzo ma soprattutto alla potenza. Questa scopa elettrica ha due velocità, quella normale che va bene per la normale pulizia quotidiana, poi cliccando sul pulsante max qui sopra avete la massima potenza di aspirazione che arriva fino a 120 W. Il motore è piccolo, di tipo digitale, quindi una tecnologia simile a quella dei vari Dyson. Una cosa che ho apprezzato è che nonostante sia potente, il giusto, 120 W sono un'ottima potenza di aspirazione, è molto silenzioso. Ora sul rumore c'è una piccola percezione perché il Dyson per esempio fa molto rumore, ve lo faccio sentire a velocità massima giusto per farvi rendere conto di quanto casino produca. Può essere soprattutto fastidioso se per esempio lo utilizzate mentre in casa ci sono altri ospiti. Questo qui non ha l'attivazione, o meglio ha l'attivazione a grilletto ma si accende e spegne come normale aspirapolvere quindi dovete tenere premuto per attivarlo. Sentite è un po' più lenta l'attivazione ma è molto silenzioso. Il fatto che sia silenzioso, vi faccio se questa è la velocità normale, vi faccio sentire anche la velocità max. Il fatto che sia silenzioso, dicevo, vi illude del fatto che aspiri di meno. In realtà la potenza di aspirazione è poi molto simile, quindi passandolo sulla stessa superficie a parità di condizioni ottenete un risultato davvero molto simile. Questo è sorprendente ed è soprattutto molto utile perché ovviamente noi pensiamo sempre a noi stessi e all'utilizzo casalingo, però è un aspirapolvere che è una scopa elettrica che potrebbe essere usata per esempio in un bed and breakfast, in una piccola attività oppure in un piccolo ufficio. Ci sono uffici in cui i dipendenti magari hanno il compito di passare la scopa elettrica in varie zone in modo da mantenere l'ordine e mantenere la pulizia. Nelle piccole e medie aziende è una cosa che si utilizza. Dopodiché è completamente smontabile, qui potete togliere il filtro, qui sopra c'è il secondo filtro, EPA. Le griglie sono molto piccole per cui andrà a catturare e intrappolare tutti i piccoli detriti. Qui sotto c'è il filtro che si può pulire, come potete vedere è sporco. Alcuni di voi mi criticano perché non pulisci le cose prima di mostrarle, perché così vi faccio vedere che effettivamente le ho utilizzate. Una cosa che ho apprezzato dal punto di vista del design è che tutti gli elementi sono a vista. Per esempio qui dietro nella parte posteriore si vede la scheda logica che poi fa funzionare tutta la scopa elettrica. E questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Potete smontarlo praticamente per intero e andare a pulire e andare a fare la manutenzione su tutti i singoli pezzi. Il serbatoio ha una capienza di 600 ml. Questo vi permette di utilizzarlo in condizioni normali e non di sporco accumulato, magari dopo un mese che non siete a casa, per una settimana e poi svuotarlo. Suotamento che è molto semplice, dovete però smontare tutti gli altri accessori, o meglio, è meglio smontare tutti gli altri accessori, poi basta premere questo grilletto, si apre lo sportellino e svuotate il serbatoio. Serbatoio che come i vecchi Dyson, il V8 aveva lo stesso sistema, poi dal V10 in avanti hanno messo questo serbatoio qua che vi obbliga a togliere i pezzi prima di svuotarlo. A livello costruttivo devo essere onesto, è molto buono, i materiali sono decisamente solidi ed è molto leggero. L'impugnatura è buona, è cavo all'interno, per cui si risparmia davvero un sacco di peso e questo permette di essere più maneggevole e di essere trasportato meglio. All'interno della confezione c'è anche un tubo flessibile nel caso vi dovesse servire, cose che non mi hanno fatto impazzire. Allora, prima di tutto il sistema di ricarica. All'interno della confezione c'è una docking station, che è questa qui che vedete, poi ve la faccio vedere meglio. È molto comoda perché la appendete al muro e vi permette di caricare sia l'aspirapolvere, quindi sia la scopa elettrica, che la seconda batteria. Come vi ho detto ce ne sono due, però c'è una criticità. Nel caso in cui voi non vogliate appendere la docking station, ci possono essere situazioni in cui, insomma, non ve la sentiate di bucare la parete per appendere la docking station, non avete alcun modo per ricaricare né la batteria né la scopa elettrica. Perché? Perché l'unico contatto, l'unico sistema di ricarica è tramite questi due piccoli contatti che vanno agganciati alla docking station, per cui siete obbligati a utilizzare quel sistema di ricarica. Per esempio il Dyson ha il doppio sistema di ricarica, nel senso che, sì, potete agganciare la docking station, ma nel momento in cui non volete installare la docking al muro potete tranquillamente attaccare l'alimentatore al Dyson. Quindi questa è una cosa che andrei a migliorare in un'altra evoluzione di questo modello. Altra cosa è che non mantiene in memoria la potenza di aspirazione. Io, per esempio, molto spesso quando lo uso mi piace aspirare alla massima velocità, però ogni volta che poi vado ad accenderlo, devo prima accenderlo e poi selezionare massima. Adesso l'ho spento, vedete, lui parte alla velocità inferiore e poi devo andare ad azionare la velocità massima. Molto buono il fatto che ci siano tre LED qui che segnalano l'autonomia a residuo, quindi avete scaglioni di circa il 33% ogni volta che si scarica. Quando sta per esaurirsi lampeggio di rosso, la cosa positiva è che però voi sfruttate la potenza della batteria finché non si scarica, nel senso che man mano che si scarica non va a diminuire la potenza, ma avete sempre la massima potenza di aspirazione. Quindi, secondo me, è un'ottima alternativa al Dyson e poi ci sono delle chicche che personalmente ho apprezzato moltissimo. Per esempio, molti aspirapolveri hanno queste ruote in plastica. Certo, anche qui la struttura è in plastica, però c'è una bandella in silicone che vi permette di evitare i graffi su qualsiasi superficie. Quindi, anche per chi ha parquet o superfici delicate, questo è un aspirapolvere che sicuramente non andrà a creare alcun graffio. Dopodiché, beh, c'è tutto quello che ci aspettiamo da una scopa elettrica di fascia elevata. Purtroppo non sta in piedi da sola, però questo, insomma, il principio è che questa è una scopa elettrica che dovete acquistare se avete intenzione di sfruttare, ovviamente, la docking station inclusa. A livello di aspirazione, vi dicevo, è davvero molto buona, sia su tappeti, pavimenti duri, ma anche su superfici non perfettamente uniformi. Quindi funziona davvero molto bene, io l'ho utilizzata per tutta l'estate, per tutto il mese di settembre, quindi è da due mesi che l'utilizzo insieme al Dyson. Ripeto, il Dyson fa molto più rumore, quindi l'impressione è quella che abbia una potenza spaventosa. In realtà, poi, se vado a comparare, se è sullo stesso tappeto, in una metà passo lui e in una metà passo il Dyson, il risultato è praticamente identico. Quindi qui avete però il vantaggio di avere la doppia batteria, vi si saurisce questa, vedete come è facile sganciarla, la togliete, avete l'altra carica, la rimettete, quindi pulire anche un appartamento più grande non è difficoltoso, perché, insomma, avete un'autonomia globale di circa poi 40 minuti alla massima velocità, ogni batteria dura all'incirca 20 minuti alla massima velocità, 15-20 minuti, a seconda delle condizioni degli accessori utilizzati, perché è ovvio che se utilizzate questa spazzola con il LED ed è motorizzata andrà a consumare di più, se utilizzate i beccucci andrà a consumare un po' di meno. Non ho notato particolare criticità, è ottima dal punto di vista dell'ergonomia, peso, costruzione, molto particolare e bella da vedere. Certo, in un ambiente come il mio, che ho le pareti rossa, vedere questo turchino forse non è proprio l'ideale, nel senso che ha dei colori che potrebbero non adattarsi a tutti gli ambienti. Per il resto, però, a livello di funzioni, di ergonomia, peso, soddisfazione di utilizzo, beh, è una scopa davvero molto molto valida. Secondo me i principali competitor, oltre al Dyson, potrebbero essere la Roventa Air Force 460 Flex, che ha il vantaggio di avere il tubo centrale ripiegabile, quindi voi premete un pulsante e arrivate comodamente sotto ai mobili, senza dovervi piegare e mettervi in posizione strana. L'altra è la Bissell Icon, da 25 Volt, che ha il vantaggio che però costa un po' di più. Lì cambia proprio il sistema di svuotamento, che è molto simile invece al Dyson, e la costruzione forse è un pelino migliore. Però poi a livello di potenza e di aspirazione siamo lì. Molto bene con i peli di animali e con i capelli lunghi, e vi posso assicurare che qui in casa ne ho tantissimi. E' insomma un'ergonomia d'uso che in linea di massima mi ha soddisfatto. Vi consiglio però forse 389 euro, per un brand che non si conosce tantissimo, sono un po' tanti, però è un brand che fa tante promozioni. Quindi vi consiglio di aspettare un prezzo un po' più basso, se eventualmente siate interessati a una scopa elettrica, che rispetto per esempio a ProScenic P10, abbia più potenza, più accessori, e un picco di più di flessibilità di utilizzo, allora questa è una scopa elettrica sicuramente da tenere sott'occhio. Vi lascio il link qui sotto la descrizione, seguitemi sul canale Telegram, perché tra un po' ci sarà il pre-end day, quindi ci saranno un botto di offerte, e molto probabilmente che questa andrà in offerta. Per questo video è davvero tutto, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi e mi raccomando, ci tengo. Ciao! 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 Ciao!